Musica Chi è? Chi siete voi? Come avete fatto a superare le guardie? Perdono, maestà. Solo, solo, un vostro umile servitore. Che cosa volete? Solo fervi un omaggio, maestà. Che scherzai? Un manufatto antico, forgiato col ferro della nostra amata isola. Che cosa rappresenta? È una chiave, maestà. Che cosa rappresenta? Grazie a tutti